ciao ragazzi nell'attesa del nuovo video sui maestri del fumetto volevo fare una recensione ludica anzi in questo caso direi video ludica una recensione un po del del bip perché sto per recensire una console comprata ieri dai cinesi console si chiama game box quindi già non ha nemmeno un nome della all press comunque si chiama game box 400 giochi in uno naturalmente quando l'ho visto ho capito subito che era il solito emulatore nintendo con i giochi che si ripetono eccetera eccetera montato all'interno di una di una console portatile e voi vi chiedere vi vi chiederete allora perché l'hai presa se già sapevi che cosa devi a comprare ma perché giocare con perché giochi del nes vi piacciono innanzitutto del nintendo 8 bit e poi giocarci sul cellulare è molto scomodo per via del touch screen e poi occupano memoria invece così in questo modo diciamo volevo avere una cosa da portare in spiaggia carina e soprattutto sono stato attirato da questo che adesso vi farò vedere il prezzo della console 15 euro e diciamo che poteva costare anche anche meno che se sinceramente di 15 euro allora vediamo le caratteristiche in italiano sistema di gioco digitale da 3,0 pollici lcd super ampio questo è vero questo è vero adesso ve lo farò vedere dispositivo multi piattaforma digitale puoi giocare in tv e qui casca l'asino già la funzione retro illuminata dello schermo assicurarsi che i giocatori possano giocare ovunque scritto in malo modo però vabbè si è capito con la potente batteria ricaricabile a ecco e signorina del 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 negozio quando ho comprato la console non mi ha dato la batteria grazie per fortuna ho scoperto che vanno anche con le batterie dei dei nokia dei quelle dei vecchi nokia no quindi se ho rimediato in questo modo giusto per non tornare di nuovo in negozio per per dire uè ma la batteria dove sta con la potente batteria ricaricabile pacchetto include un adattatore ca e un batteria ricaricabile agli ioni di litio sei ore di gioco di conti di continuo vabbè lascio vedere come come scritto vabbè comunque la batteria non c'era ce l'ho messa io va bene va bene così dai non fa niente vediamo passiamo adesso al contenuto aprendo il contenuto troviamo questo allora io direi che la forma è molto accattivante vabbè a parte qui che c'è un cane disegnato anzi un orso c'è scritto polar beer si si intuisce c'è scritto polar beers ciao e questa è la faccia mia si vede si vede allora c'è scritto polar beer e all press la cosa che mi attirava è proprio la forma tipo game boy e mi piaceva questa cosa la batteria vi faccio vedere c'era il vanno batteria vuoto ho messo la batteria del no che va bene così dai non fa niente include nella confezione ci sono inclusi oltre la console che tra poco la accendiamo questa è la cosa che mi ha colpito di più è un piccolo controller anche ben fatto direi rispetto alla croce direzionale di questa che fa schifo e non diciamo schifo fa davvero cagare però questo ricorda molto il controller del ness ben fatto direi peccato che si non si può utilizzare per giocare con la console perché si può utilizzare solo come secondo giocatore non so che senso abbia questa cosa però funziona così il abbastanza abbastanza lungo circa un faccio vedere circa un metro un metro e passa direi è abbastanza lungo e sarebbe stato buono per sfruttare la funzione della tv e invece non si può perché funziona solo come secondo giocatore vabbè vai a capire e poi c'è il pezzo forte il cavo tv il cavo tv è lungo non so se si vede 50 cm scarsi ecco cioè io praticamente dovrei giocare non l'ho nemmeno provato perché c'è questo tipo di component c'è un solo cavetto video e uno audio e non so come come attaccarlo alla tv dove dovevi trovare una scart con l'adattatore è una scart perché è un sistema avv il televisore ha il televisore oggi non c'hanno quasi quasi più questo tipo di di attacco hanno tutti gli attacchi hdmi va bene però tanto comunque non c'è poi si l'input è un semplice jack non ci giocherei comunque perché ripeto stare a 50 cm dalla tv per per giocare la tv poi sulla tv ho già il raspberry pi e volevo solo una cosa diciamo semplice da portare in spiaggia che non mi dispiace poi magari no cioè se si rovina diciamo non mi dispiace molto questo è che costa 15 euro è un giocattolino plasticosissimo che adesso andiamo a vedere poi dentro c'è il user manual retro fc che spiega veramente quello che che vi ho detto niente di più niente di meno andiamo a vedere questa console facciamoci un gameplay magari ci facciamo pure una partitina spero che si vedano le immagini allora andiamo ad analizzarle cavo il famoso cavo per il il cavo tv praticamente per collegare alla tv il jack la presa questa per ricaricare è quella simile a quella del telefono ah c'era forse pure mi sa che mancava pure il cavetto per ricaricarlo cioè incredibile vabbè comunque si carica tranquillamente con qualsiasi cavo del telefono questa è l'accensione eccolo qua accensione non c'è nient'altro sì c'è il volume non so se si si vede il volume è il famoso vado batterie si presenta molto dicevo plasticosa e la croce direzionale è come dicevo fa davvero è davvero pessima perché va quando schiacci un tasto va gli schiaccia tutti con te fra venta oltre a essere durissima poi tasto reset quattro tasti 4 1 2 3 4 ma inutilissimi a che servono quattro tasti per se c'è solo il ness non lo so non ho idea infatti sono quattro tasti ripetuti start e select accendiamo ah senti già il rumore il rumore che fa allora non so se alzare abbassare allora questo è lo schermo cinese possiamo scegliere tra non so se si legge cinese o inglese non so perché mettere i titoli sia in cinese che in inglese comunque andiamo a scegliere l'inglese perché altrimenti ci ritroviamo ok questi sono i giochi allora devo dire che la selezione di giochi forse si sfoca lo schermo non si vede bene mi piace anche se i titoli si ripetono altri sono messi un po' non corrispondono ai titoli originali comunque vediamo che c'è super mario mario 3 dottor mario mario bros quindi sono tutti i mario pubblicati sul sul ness non ho visto se c'è mario 2 spero di sì poi ci sono anche delle quelle le rom hack no quelle senza licenza contra non so perché ci sono 10 contra saranno vari capitoli adventure island che mi piace tantissimo c'è anche bubble bubble 2 che è uno dei miei giochi preferiti bubble bubble è uno dei miei giochi preferiti però qui c'è il 2 snow bros e insomma ci sono diciamo i classici ci sono i vari da blue dragon spider man allora ho provato ballon fight mi piace tantissimo allora ho provato a giocare vediamo ballon fight allora ho provato a giocare a pacman per esempio è impossibile da giocare con questa croce perché si inceppa e risponde in ritardo ai comandi diciamo che si ci si diverte a giocare però un po ci sia e ci si incazza abbastanza questo è lo stesso tasto Bad Diciamo che ho preso questo gioco scusate faccio vedere di cambiare il gioco vabbè ho fatto più schifo che altro purtroppo il cellulare distorce sentite il rumore assurdo che fa se torniamo oddio fa un rumoraccio tremendo questa console tutto sommato ci si diverte sono 400 giochi diciamo in realtà potremmo dire che se ne contano potremmo dire che di questi 400 giochi in realtà ne abbiamo una trentina che bastano avanzano da portare in spiaggia va più che bene ce n'era anche un'altra console che mi stava attirando però aveva un meccanismo cioè che ovviamente ci metti pure la sim del telefono non si capiva molto bene forse era 16 bit però magari se ci ritorno prendo pure quella già che è così farò la recensione anche di quella questi qua sono un po' di titoli classico bomberman allora faccio una partita ping pong così ma sono titoli un po' messi bisogna aprirli qui siamo già a 200 e passa diciamo che i primi sono quelli che i giochi veri e propri poi si passa alle ripetizioni di giochi dic dag comunque carino dai ragazzi sono contento comunque alla fine sono 15 euro ti passi il tempo inutilissimi ripeto questo che mi dispiace devo vedere se riesco a utilizzarlo per i rasperi perché rispetto a questa croce direzionale che fa schifo questo in realtà è molto molto meglio guardate anche i tasti questi sono i tasti della console e questi sono i tasti del controllo sono più grandi quindi è molto molto più più carino da utilizzare però se io lo collego quindi la colleghiamo e così lo collego mentre non non funge vedete non fa non fa nulla posso solo utilizzarlo vi faccio vedere allora non gioco dove dove posso giocare in due allora vediamo Mario 3 ecco qua faccio vedere un gioco dove posso giocare in due così allora due giocatori ecco così allora adesso perdo col primo giocatore vediamo spero che si veda spero che si veda ragazzi purtroppo io non so facciamoci dire subito ok tanto il controllo non funziona funziona solo come secondo giocatore eccoci qua non so non so se si vede vediamo se ingrandiamo l'immagine vedete ecco qua che funziona cioè solo come secondo giocatore e funziona anche bene c'è da dire oddio anche questo risponde no anche questo risponde ma luce comandi però meglio di niente insomma va bene ragazzi la recensione è durata anche troppo insomma di questa di questa cosina era giusto per per farvi vedere un piccolo acquisto con con poco vabbè certo se mi piace giocare con la con la PSP o con o col 3DS diciamo con la PSP non fa per voi però se siete l'amante del retro game in qualsiasi negozietto cinese con 15 euro anche meno secondo me perché secondo me se l'avevo pagato pure pure assai e con 15 euro vi portate a casa questa questo piccolo game boy che game boy non è noi ci vediamo alla prossima sulla soffitta di Pippo grazie per la visione ragazzi ciao alla prossima